buongiorno sono marco campo numero uno oggi ho fatto voglio fare il botto con gruppo 2006 mister simone loria l'elento è quasi al termine finirà le 18 giornata splendida ragazzi ma cosa fate a casa con i nostri fantastici portieri con il nostro mister dei portieri manrico de paoli ma come si fa con un tempo così splendido stare a casa le tribune sono vuote e allora noi visto che voi siete così remissivi non volete venire a mercadante vi portiamo noi al mercadante col gruppo 2006 vi ricordiamo che questo weekend prossimo che arriverà partono i campionati regionali e provinciali simone loria sta spiegando ai ragazzi del 2006 i movimenti o under 15 fate voi a me piace sempre 2006 non mi piace rander andare però al momento cambiando il discorso anzi tornando discorso di prima probabilmente quest'anno al momento non potrete vedere i vostri amici del 2006 perché hanno discorso kovid negare di campionato sia provinciale che regionale sono a porte chiuse abbiamo anche un ragazzo in prova potete vedere il ragazzo col completo rosso rubiamo qualche istante del gruppo di portieri del 2006 2007 perché ci sono proprio tutti e questa questa bellissima serata e quindi vi ricordiamo che virtus mercadante accetta tutti i ragazzi dal 2015 al 2002 2003 quindi se volete un provino se volete fare quattro parole sapere se c'è posto non c'è posto o venite qua in via mercadante 133 al primo piano c'è filomena e angelo potete chiedere informazioni a loro o telefonate o scrivete sui social vi daremo sicuramente una risposta se vi piace bene altrimenti amici come prima questo è il mio mio motto che dura da diversi anni una maglia gialla la maglia rossa a seconda dell'età una maglia da portiere e poi naturalmente avrete anche l'opportunità di stare con il nostro misto dei portieri il nostro preparatore dei portieri vedete anche i poteri più grandi che sia quella maglia nera 2004 2005 termine allenamento del gruppo 2006 preparatori atletici c'è tutto qui a mercadante vediamo se c'è qualche intervista ai nostri amici 2006 andiamo a fare un'intervista a qualcuno vediamo se si avvicina a noi oppure se lo stress dell'allenamento allenamento come va come ti chiami 2006 qual è il tuo ruolo ma il primo anno che sei qua inizia il campionato questo weekend con chi giocate la prima dovremmo citturino ricordo male cosa pensi di questo campionato che sta arrivando questo vedere hai già visto il girone si abbiamo già visto il girone le squadre che mi ricordo sono la scaris il valpignano il talent social comunque un girone difficile come ti chiami di cognome ecco è parte questo campionato col covi di mezzo le tribune saranno sicuramente al momento chiuse è brutto questo è brutto però è già un segno che siamo in campo dai bocca al lupo allora ti seguiremo in bocca al lupo anche la squadra andiamo a vedere se riusciamo a rubare qualche intervista ancora stanno scappando come il vento il 2006 ragazzi sono vedete che basta un attimo e altre maglie gialle non posso riusciamo a trovare qualcun altro che è disponibile a parlare eccolo qua sono scappati come il vento